Oggi abbiamo avuto il congresso di apertura di questo nuovo centro delle malattie rare. Ovviamente noi vediamo vari tipi di malattie rare. Un tipo di malattia rara che vediamo forse con prevalenza maggiore rispetto ad altre è la fibrosi polmonare idiopatica. La fibrosi polmonare idiopatica è una malattia molto strana perché è una malattia maligna, presenta una prognosi che è del tutto simile a quella del cancro del polmone, per cui i pazienti muoiono in genere nel giro di 3-5 anni. Ma mentre un paziente che ha il cancro del polmone ha e viene informato di questa diagnosi ha la consapevolezza di dover morire presto, i pazienti a cui si dice che sono affetti da fibrosi polmonare idiopatica in realtà non hanno questa percezione. Ritengono di avere una malattia che non è maligna, che non è progressiva e comunque ritengono di avere una malattia per la quale sia possibile instaurare delle cure farmacologiche efficaci. Tutto questo purtroppo non è vero, per cui si passa con questi pazienti qualche anno dal momento della diagnosi, nel quale in questo periodo questi pazienti acquisiscono progressivamente la consapevolezza che le terapie che si stanno facendo non sono efficaci e che la loro condizione cardiorespiratoria peggiora soprattutto nelle fasi avanzate tutti i giorni un po' di più. questo ovviamente genera delle profonde frustrazioni nei nostri pazienti e devo dire anche noi medici che abbiamo il dovere di assisterli fino a quando è possibile, fino alla fine, in buona sostanza. Un altro capitolo estremamente dedicato ma al contempo importante ovviamente è quello delle nuove terapie. Oggigiorno non esistono terapie certamente efficaci nei confronti della fibrosi pulmonare cardiopatica, pertanto esistono degli studi clinici che sperimentano dei farmaci la cui efficacia è da dimostrare e ovviamente i nostri pazienti alimentano grosse aspettative in questi farmaci che in taluni casi, devo dire ancora tendenzialmente molto pochi, danno un minimo di risposta nel senso di stabilizzare la malattia ma negli altri casi non sono in grado di dare alcun tipo di modulazione non modificano minimamente la storia naturale di questa malattia e alla prima frustrazione della diagnosi corrisponde una seconda frustrazione segue una seconda frustrazione che è determinata appunto dal dover realizzare che le aspettative che sono state riposte in questi nuovi farmaci che è possibile, la cui somministrazione è possibile solo in pochi centri al mondo e in realtà il più delle volte non produce ancora al giorno d'oggi dei risultati clinicamente apprezzabili. Questo crea ovviamente un'ulteriore frustrazione dei nostri pazienti e credo che non sia difficile immaginare il legame che si instaura estremamente profondo che si instaura sia con i pazienti che con le loro famiglie per questi in media 3-5 anni nei quali il paziente giunge dalla diagnosi purtroppo all'exitus, alla morte.